ben ritrovato Stefano Ballerini dalla redazione del canale 96 di Tele Firenze Viola Supersport sia pur in leggero ritardo abbiamo deciso di cominciare la stagione al seguito delle squadre toscane dei vari campionati di oca e rotelle anche se dall'anno scorso ancora non abbiamo fissato nessuna collaborazione con nessuna formazione ma visto che siamo autorizzati a prelevare filmati e partiti da fisre punto it che ovviamente ringraziamo allora ricominciare ricominciamo a riempire i nostri palinsesti dandovi settimanalmente oggi è giovedì è il giorno dedicato dall'anno scorso all'occhio a rotelle e dunque entriamo subito in sintonia su quello che è successo fino adesso pianeta occhio a rotelle canale 96 non è più pianeta occhio a rotelle uno nove sei ma è pianeta a rotelle canale 96 la situazione alla sesta giornata il titolo propostoci da fisre è il valdagno conquista la prima vittoria al fotofinish e pareggio tra viareggio e san drigo allora eh attingo ovviamente le parole che vi sto raccontando dalla redazione fisre punto it 15 anni fa si contendevano lo scudetto ed erano spesso a braccetto in testa alla classifica ora si ritrovano in testa alla gradatoria ancora appaiate seppur in maniera ovviamente temporanea per almeno un mese e mezzo davanti al tristino che giocherà solo il 30 novembre il recupero contro il lodi la coppia che non ti aspetti alla vigilia del campionato ora è in prima linea merito della loro imbattibilità in queste sei partite giocate dalla delle 26 in programma per completare il percorso del campionato merito di un ultimo martedì davvero speciale per entrambe soprattutto per un broker Bassano che viola ahimè ai noi ai loro ai tutti la pista toscana del Forte Marmi vincendo 5 a 3 con una prestazione quasi perfetta in tutti i reparti avanti 2 a 0 nel primo tempo con i senatori Cansella e Coi vengono subito raggiunti all'inizio della ripresa sotto i gol di precisione di Ambrosio prima e Gil poi amato in velocità rimetteva la freccia sul 3 a 2 Muglia a 7 dalla fine in deviazione volante riportava il più 2 per i giallorossi finale concitato con il 4 3 firmato ancora dall'ex Ambrosio e veluto che neutralizzava da super par suo tutte le occasioni compresa una inferiorità numerica negli ultimi due minuti di Coi il gol finale a porta vuoto il Galileo Folloni che invece vince per 3 a 0 sulla pista del fanalino di coda Montecchio precalcino firmando una vittoria numero 5 grazie ai suoi due under 20 il neo ventenne Oscar Bonarelli ed il diciannovenne Alberto Cabidu tre gol di rapidità davanti all'incolpevole portiere catalano il povero Martinez che regalano un'inispettata vittoria per i maremani è stato un martedì speciale anche per il white sport Valdagno che finalmente dopo 5 gare riesce a sbloccarsi in classifica vincendo al photo finish nel tiratissimo derby a Montebello match winner e Davide Nadini deviando in rete un assist da fuori aria TR chimica orfana dello squalificato portiere Paese era anche in vantaggio ad otto dalla fine per 3 a 2 sul gol dell'ex Clodelli ma la forza dei biancazzurri è non aver mai di attaccare a tre punti anche il neopromosso centro giovani calcatori di viareggio in coabitazione con Monza e Valdagno frutto di tre pareggi di cui l'ultimo nella sera scorsa contro il Tele America al Sandrigo per 2 a 2 uno scontro diretto per la salvezza giocato a visapetto dove i bianconeri sono riusciti a volare sul 2 a 0 nel primo tempo con Rosi e Moiano in mezzo a questi due gol una lunga interruzione per l'infortunio all'arbitro signor Barbarisi per un colpo alla spalla dove è dovuta intervenire l'autoambulanza e gli accertamenti del caso nel vicino ospedale Versilia l'arbitro Gian Gregorio ha diretto da solo la partita che poi ha visto il ritorno dei vicentini con bomber brandoline due tiri diretti falli del viareggio parati da Catala ed anche dal secondo portiere Cocco e da pareggiare è stato in questo caso il diciassettente di cui Giovanni nazionale under 19 e da poter dare il secondo punto apposta alle Tele Medical per una classifica cortissima dove in otto punti ci sono adesso ben dieci squadre sabato le ultime due gare prima dei circa 40 giorni di pari di hockey saranno in pista le migliori formazioni del globo a anni in Argentina si giocherà a Sarzana gamme Innovation Engas Vercelli e da Monza Tecno Service Car contro ed il Fox Grosseto allora andiamo a vedere prima gli ultimi risultati dopo ripercorreremo tutto ciò che è successo finora per metterci in pari allora sesto turno Montecchio precalcino Galileo Follonica 1952 0-3 vincono i Grossetani 0-2 0-1 i due tempi TR Chimica Montebello Wild Sport Valdagno 3-4 2-2 1-2 poi GDS Impianti Versilia Forti Ubroker Bassano 1954 a 3-5 vittoria esterna del Bassano 0-2 e secondo tempo molto combattuto 3 pari poi andiamo a vedere il pareggio tra il centro e i giovani calciatori ripeto ne ho promosso in serie a 1 Tele America 2-2 2-1 0-1 poi nel sabato 15 ottobre quello che sta per arrivare le partite che concluderanno il turno Gamma Innovation Sarzana Engas Vercelli e Team Service Car Monza ed il Fox Grosseto allora la classifica ve la do alla fine andiamo a rivedere ovviamente sono nomi delle squadre e numeri se volete potete andare ovviamente sul nostro sito da cui attingiamo tutto e dove tutto è pubblicato www.firenzeviolasupersport.com ma ormai ci conoscete allora torniamo al 17 settembre prima giornata Lodi Viareggio 4-2 Vercelli eh Grosseto Vercelli 5-7 Impianti Forte dei Marmi Monza 3-2 Sarzana che va a vincere a Baldagno 5-2 Bassano che batte Sandrigo 5-2 Follonica 4-2 il Tristino che va in doppia cifra col precalcino 13-3 la seconda giornata Gamma Innovation Sarzana Lodi vittoria di Sarzana contro gli ex campioni d'Italia 2-1 Vercelli Follonica 3-3 Team Service Car Monza Tristino 2-3 Sandrigo Grosseto 1-7 bella vittoria in trasfetta di Grosseto centro giovani calciatori Bassano 1-1 poi si dovrà recuperare TM Chimica Montebello Forte dei Marmi e Montecchio precalcino Valdagno la giornata numero 3 Tristino Forte dei Marmi 5-3 partenza non bellissima del Forte dei Marmi che arranca Bassano Sarzana 2-1 Valdagno Monza 3-5 Grosseto Viareggio nel derby un appassionante 4-3 Vercelli Montebello 1-6 Lodi precalcino 7-0 Follonica Sandrigo 4-3 siamo arrivati nella quarta giornata del 5 di ottobre Monza Lodi 1-4 nel derby Sandrigo Vercelli 3-5 Viareggio Follonica altro derby Toscano 1-2 Follonica che vince sulla pista di Reggina di stretta misura 2-1 Sarzana Grosseto un semi derby 3-3 Montebello Tristino 2-10 Tristino che esagera Forte dei Marmi Valdagno 2-0 Precalcino Bassano 4-5 siamo alla quinta Lodi Forte dei Marmi un classico 0-4 grande Forte dei Marmi in quel di Lodi Follonica Sarzana 7-1 Tristino va a vincere la Valdagno 7-4 pareggio il terzo come diceva Vengas Vercelli Viareggio 4-4 Edil Fox Grosseto Montecchio precalcino 6-4 poi Sandrigo Montebello 4-4 Bassano Monza 4-2 la sesta giornata ve la riepilogo ne abbiamo già parlato in apertura di programma Montecchio precalcino Follonica 0-3 Montebello Valdagno 3-4 Forte dei Marmi Bassano sconfitta interna di Forte dei Marmini 3-5 Viareggio Merica San Drico ancora un pareggio 2-2 poi come detto i recuperi i recuperi gli ultimi due turni che completeranno il sesto turno di sabato Sarzana Vercelli Monza Grosseto e poi il 30 di novembre Tristino Lodi per gli impegni nelle varie competizioni europee la classifica allora scrivetevi i numeri comanda un duo Follonica e Bassano 16 punti uno di vantaggio sul Tristino che ne ha 15 10 ed il Fox Grosseto attuale quarta forza del campionato davanti al Forte dei Marmi quinto a nove in compagnia di amatori Wosken Lodi poi Vercelli otto Sarzana sette chimica Montebello quattro tre per il Monza tre per il neopromosso a Viareggio tre per il Valdagno due Sandrigo zero il Montecchio precalcino andiamo a dare un'occhiata alla classifica dei marcatori Cansella Molpablo 11 Mendez Ortiz Jordi Tristino otto Saavedra Pablo Nelson Grosseto otto Alex Borregan Monza otto eh Tamborindegui Julian Monza otto ehm voglio dire ehm vabbè poi andiamo con Vercelli Battista das Neves Diogo Andrè sette Forte dei Marmi per il Ambrosio Federico sette centri come il Trissinese Giulio Cocco a sette Lodigiano Andrea Fantozzi a sette il Monzese Sercaira di Almeida Marques Bernardo sette gol poi andiamo a darvi anche una piccola anticipazione seguiremo anche il campionato di a due girone B che prevederà la prima giornata ma sarà lunga si inizia il sette di gennaio sarà anno nobile del signore duemilaventitré Grosseto Pollonica Salerno Viareggio il Salerno lunghissima trasferta per tutte perché c'è da andare a Salerno prima poi troveremo la trasferta Giovinazzo Matera per cui tre puntate nel profondo sud Sarzana Rotellistica Camaiore Forte dei Marmi Castiglione della Pescaia poi anche il campionato di Serie B Girone e tutto Toscano qui si inizia anche qui l'otto di gennaio duemilaventitré Pumas Ancoreggio Startit Prato Occheroller Grosseto Castiglione della Pescaia Centro Giovani Calciatori Rotellistica Camaiore allora ringrazio Enrico Milano che mi segue in cabina di regia da remoto che vi riempirà vi avrà riempito la trasmissione con tutto ciò che avevamo già preso e messo da parte per tenermi compagnia ogni giovedì ringrazio la redazione del canale 96 che mi segue sempre da remoto ringrazio Paolo Caselli ci sentiremo domani mattina per presentare quello che succederà nel weekend ricordandovi le partite che competeranno la sesta di andata del campionato dia 1 di hockey a Rotelle l'appuntamento rimane per le 18 di ogni giovedì come ormai appuntamento dallo scorso anno poi piano piano vedremo se potremo firmare degli accordi particolari per diretti o registrate con qualche squadra toscana che voglia farsi bella mostra di sé sul nostro canale 96 da Stefano Ballerini a Dico Milano Paolo Caselli la redazione del canale 96 un saluto a tutti gli amanti del hockey a Rotelle buona settimana buon fine settimana viva anche in questo caso l'Hockey Rotelle la nostra regia la nostra programmazione ci sentiamo come sempre giovedì prossimo domani l'anticipazione lunedì i primi risultati ma poi entreremo per l'Hockey Rotelle nel nezzo di risultati e classifiche ogni giovedì alle ore 18 vi abbraccio vi voglio bene linea alla regia